Sacri panti, bocca al lupo a Pino, a un grande amico, una grande persona e alla Scandone che rappresenta tutto l'Irpinia, tutto l'Avellino ed è un qualcosa di molto bello che lo sport avellinese sia ad alto livello, questo fa piacere come lo siamo nel calcio perché parliamo di categorie e di sport importanti, che una città abbia queste squadre in queste categorie è una cosa molto bella.